Una buona domenica a tutti. Penso sia utile introdurre il brano evangelico di oggi con una breve presentazione dei luoghi cui il testo fa riferimento perché hanno un significato teologico e questo accade spesso nella Bibbia. La tradizione colloca il battesimo di Gesù a Betabara, vi viene indicato questo luogo nella Bibbia, si trova a nove chilometri a nord delle rive del Mar Morto e si trova nell'attuale Giordania. Il fiume Giordano è citato 179 volte nella Bibbia quindi ha una grande importanza ma non si tratta di una importanza economica. Lungo le rive di questo fiume non è mai sorta una grande città. A differenza quindi dei grandi fiumi, qui guardavano gli israeliti, il Nilo in Egitto e il Tigri e l'Eufrate in Mesopotamia. Era lì che accanto a questi grandi fiumi erano nati i grandi imperi. Il fiume Giordano non aveva alcuna importanza di questo tipo. Che cosa significava il fiume Giordano nella Bibbia? Aveva il valore di segnare un confine fra la terra pagana idolatrica e la terra della libertà. Cosa faceva il Battista? Predicava la conversione, invitava a riconoscersi i peccatori, poi battezzava coloro che andavano da lui. Gli ebrei, specialmente le persone più osservanti delle tradizioni come i monaci di Comrano e i farisei, compivano molte immersioni nell'acqua per purificarsi. Gli archeologi hanno trovato ovunque queste vasche, queste mikvot. Basta pensare che attorno al Tempio di Gerusalemme ce ne sono almeno un centinaio. Ma il rito del battesimo era un'immersione particolare, aveva il significato simbolico di far scomparire la persona precedente, era come se fosse morta e poi dall'acqua nasceva una persona nuova. Veniva compiuto questo rito, per esempio, quando un pagano si faceva ebreo, dichiarava di rinunciare al culto delle divinità pagane, professava la fede nell'unico Dio, poi si era un uomo, veniva anche circonciso e poi veniva battezzato. Voleva dire che l'uomo di prima, il pagano, era come se non fosse mai esistito e dall'acqua nasceva un giudeo. La stranezza adesso è che Giovanni chiamava a farsi battezzare non i pagani, ma quelli del suo popolo, coloro che essendo figli di Abramo, ritenevano di avere già raggiunto la salvezza, si sentivano a posto, liberi, avevano raggiunto la terra promessa. Il Battista scombussolava queste convinzioni. Non siete ancora arrivati nella terra promessa, siete ancora nel mondo pagano e quindi faceva compiere loro questo gesto, tornate nella terra pagana perché dovete fare un nuovo esodo, dovete passare di nuovo il fiume Giordano prima di entrare nella terra della vera libertà. L'Evangelista Giovanni dice che tutta la Giudea usciva verso il Battista, tornava al di là del Giordano nella terra della schiavitù e questo gesto serviva a far prendere coscienza che avevano bisogno di pensare a un'altra terra promessa, quella in cui il Messia che il Battista ha indicato avrebbe introdotto il popolo. È per questa ragione che quando vanno dal Battista i farisei e i sadducei, i quali non volevano farsi battezzare, non sentivano questo bisogno perché non avevano coscienza di essere ancora schiavi, il Battista li attacca e dice razza di vipere che vi ha insegnato a sfuggire all'ira imminente e non dite noi abbiamo Abramo per padre perché Dio può far sorgere figli di Abramo anche da queste pietre. Dovevano rendersi conto della loro condizione di schiavitù, non una schiavitù materiale anche se erano poi soggetti all'impero romano ma di una schiavitù che impedisce di essere realmente uomini, schiavi delle proprie passioni, del proprio orgoglio, delle proprie cattiverie, delle infedeltà alla Torah e alla parola dei profeti e tutto questo rende schiavi e bisogna prendere coscienza di questa realtà di questo fatto. È in questo contesto culturale e religioso che Gesù lascia Nazare e scende a Betabara per farsi battezzare da Giovanni. È l'inizio della vita pubblica che viene narrata nel Vangelo di Matteo cominciando al capitolo terzo ma tutti gli evangelisti iniziano il loro Vangelo con il battesimo di Gesù. Inizia la vita pubblica quando Gesù si reca a Betabara per farsi battezzare da Giovanni. Il Vangelo di Matteo presenta alla fine del capitolo secondo Gesù che va a Nazareth con i suoi genitori a un due anni e poi all'inizio del capitolo terzo Gesù entra in scena quando ha 34 anni, quindi sono passati 31-32 anni fra la fine del capitolo secondo e l'inizio del capitolo terzo. Cos'è accaduto in quei 32 anni? Non lo sapremo mai. Alle nostre curiosità hanno tentato di rispondere ai Vangeli apocrifi inventando poi tanti episodi che conosciamo anche noi molto bene, ma non interessano affatto per la nostra fede. Interessa solo quel tempo in cui Gesù si è presentato al mondo pubblicamente per proporci la vera immagine di Dio e l'uomo riuscito. Ciò che è strano è che Gesù va a Betabara a farsi battezzare. Poi dopo il battesimo lui non ritornerà più a Nazareth, inizierà la sua vita pubblica a Cafarnao, ma adesso va a farsi battezzare e questo è molto strano perché nessuno si sarebbe mai aspettato un Messia che riconosce di essere un peccatore e quindi va dal Battista per unirsi a tutti gli altri peccatori per convertirsi. No, il Messia non poteva compiere questo rito, questo gesto. Difatti ha sempre fatto difficoltà ai primi cristiani il fatto che Gesù sia andato a farsi battezzare insieme con i peccatori, lui che non era peccatore. Sentiamo che cosa è accaduto. Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo, sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me? Ma Gesù gli rispose, lascia fare per ora perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Allora egli lo lasciò fare. La Chiesa Ortodossa che vedete alle mie spalle vi indica il luogo esatto dove si trovava il Battista e dove Gesù è andato a farsi battezzare. Si trova nella parte orientale del fiume Giordano, quel fiume che poi doveva essere attraversato per iniziare il nuovo esodo con Gesù che doveva guidare questo popolo verso la terra della vera libertà. Il luogo si chiama, si chiamava Betabara. Questa parola ebraica viene da Bet, la casa, e Avar. Avar significa attraversare, è il luogo dal guado, è il luogo dove il popolo di Israele che proveniva dalla terra di schiavitù dell'Egitto, aveva attraversato il deserto, ha passato il fiume Giordano proprio qui a Betabara ed è entrato nella terra promessa. Adesso c'è prima un controesodo voluto dal Battista e poi il vero esodo che deve portare nel regno di Dio. Che cosa fa il Battista quando arriva Gesù per farsi battezzare? E lo vuole impedire. Per quale motivo? Il Battista è come se gli dicesse tu Gesù qui sei fuori posto, non capisco cosa sei venuto a fare. E davvero il Battista non poteva capire la scelta fatta da Gesù. Perché? Perché aveva in mente la sua idea di Messia, un Messia che, essendo giusto, non poteva mischiarsi con i peccatori. E subito dopo il Battista entrerà in crisi. Perché? Perché aveva l'immagine di un Dio e di un Messia inviato da Dio che assomigliava quindi al Signore che si teneva lontano dai peccatori, dai lebrosi. E invece il Dio che è presentato sul volto di Gesù è completamente diverso. Lui starà con i peccatori, con chi ha sbagliato nella vita, con i pubblicani. e Gesù comincia male secondo i criteri del Battista e voleva impedirglielo. Beh, questo gesto del Battista è un po' come ciò che fa Pietro in seguito. Pietro vorrà impedire a Gesù di percorrere un certo cammino che non entra nei suoi criteri messianici. Qui il Battista si comporta esattamente e come poi farà in seguito Pietro e Pietro verrà chiamato Gesù, Satan. Tu ti vuoi opporre al cammino che io devo compiere. Il Battista compie esattamente lo stesso gesto di Pietro. Vuole impedire a Gesù perché non capisce ciò che Gesù sta facendo. Il testo originale è tradotto male poi nella nostra traduzione perché Gesù dice lascia, lasciami fare. E quando Battista accetta di battezzare, Gesù, il testo dice il Battista lo lasciò, non lo lasciò fare, lo lasciò. È un'espressione che ricorre due volte nel Vangelo secondo Matteo. Ricorre qui, quando il Battista lo lascia, Gesù, e ricorre dopo la terza tentazione, quando il Satà lo lasciò, non è riuscito a impedire a Gesù di andare per la sua strada. E qui è come se il Battista lo trattonasse come se lo volesse condurre a seguire i suoi criteri di giustizia. Poi il Battista lo lascia, lascia che Gesù compia la sua giustizia, che non è quella dei giustizieri come il Battista aveva in mente, tagliare gli alberi che non portano frutto, bruciare la pula nel fuoco inestinguibile, quindi la separazione dei buoni dai cattivi. No, adesso entra la nuova giustizia che è la totale gratuità dell'amore di Dio che Gesù rivelerà durante tutta la sua vita pubblica. Cos'è che non capiva il Battista? Non capiva ciò che già l'Antico Testamento aveva già cominciato a rivelare, cioè che Dio sta con il suo popolo sempre, in modo incondizionato. Questo si rivelerà in pienezza in Gesù che è l'Emmanuele, Dio con noi, ma già l'Antico Testamento ci mostrava questo amore incondizionato di Dio che stava e camminava con il suo popolo. Ricordiamo la colonna di nube e di fuoco che accompagnava Israele nel cammino del deserto, poi l'arca dell'alleanza che veniva collocata in una tenda e questa tenda stava con le tende del popolo di Israele in cammino. Poi il Tempio di Gerusalemme che indicava proprio la presenza di Dio in mezzo a Israele e quando questo popolo verrà deportato in Mesopotamia il profeta Ezechiele vede i cherubini che prendono l'arca dell'alleanza che è il segno della presenza di Dio e questa arca va sul monte degli olivi e poi parte per andare verso oriente perché Dio non può stare lontano dal suo popolo. Se il popolo è deportato anche Dio va per stare con lui. E sempre il profeta Ezechiele vedrà poi quest'arca che torna a Gerusalemme insieme con il suo popolo. Bene, sentiamo adesso che cosa accade quando Gesù esce dall'acqua del fiume Giordano. Appena battezzato Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo spirito di Dio di scendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Per spiegare ciò che è accaduto al momento del battesimo di Gesù, l'Evangelista Matteo impiega tre immagini bibliche. La prima, si spalancarono i cieli. I rabbini dicevano che i cieli erano sette e sopra il settimo cielo c'era finalmente il trono di Dio e fra un cielo e l'altro erano necessari 500 anni di cammino. Che cosa era accaduto? Che negli ultimi secoli prima di Cristo il popolo aveva avuto la sensazione che Dio avesse chiuso tutti e sette i cieli, chiusi a chiave. Per quale motivo? Perché sembrava che non volesse più aver nulla a che fare con il suo popolo. Erano stati infedeli, non avevano ascoltato i profeti e allora Dio si era stancato e non aveva più inviato e fatto udire la sua voce. Salmo 74 dice «Non ci sono più profeti e nessuno tra di noi ci sa dire fino a quando durerà questa situazione di silenzio di Dio che tanto ci angoscia». Oppure il profeta Daniele che dice «Non abbiamo più né capo né profeta né luogo per offrirsi olocausti». Quando finirà questo silenzio di Dio e si aspettavano che Dio in qualche modo tornasse a mostrare il suo volto. Erano pentiti dal loro peccato e c'è una stupenda preghiera cui fa chiaramente riferimento l'Evangelista Matteo in questa apertura dei cieli che erano chiusi. Si trova questa preghiera del popolo angosciato al capitolo 63 di Isaia. Dice «Signore, guarda dal cielo e osserva». Quando gli uomini si trovano in queste situazioni angoscianti si rivolgono al cielo e chiedono a Dio «Bella questa preghiera, guarda ciò che accade, in che situazione noi ci troviamo, non forzarti all'insensibilità perché tu sei nostro padre». Bene, è la prima volta nella Bibbia che Dio viene invocato come padre. Gli ebrei non chiamavano volentieri Dio padre. I pagani sì, loro avevano già il loro padre. Abramo, i patriarchi erano i loro padri. Dio non veniva invocato nella preghiera come padre. Qui è la prima volta che viene chiamato padre. Tu sei nostro padre. Abramo non ci riconosce come figli. Israele non si ricorda di noi, fa finta di non conoscerci. Tu, Signore, sei nostro padre. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore così che non ti tema? C'è un po' di colpa anche tu. Dovevi stare più attento come padre a ciò che noi combinavamo. Siamo diventati gente su cui il tuo nome non è mai stato invocato. Siamo diventati peccatori. E adesso l'invocazione. Se tu squarciassi i cieli e scendessi. Davanti a te sussulterrebbero i monti. Ma tu, Signore, sei nostro padre. Noi siamo argilla e tu colui che ci plasma. Tutti noi siamo opera delle tue mani. È stupenda. È questa preghiera in cui il popolo invoca il Signore perché squarci i cieli. Bene, ciò che ci vuol dire l'Evangelista Matteo è che quando Gesù ha iniziato la sua vita pubblica con il battesimo, quando è uscito dall'acqua, questi cieli sono squarciati. L'Evangelista Marco ad opera un verbo molto forte, schizomai, vuol dire squarciati, spezzati, non si riescono più a chiudere di nuovo, rimarranno sempre aperti. Un'immagine stupenda perché da quando il Figlio di Dio si è fatto uno di noi, i cieli non possono più essere chiusi perché altrimenti rimarrebbe fuori suo figlio che si è messo insieme con questo popolo che è peccatore, che commette errori. La porta della casa del padre rimarrà eternamente spalancata per raccogliere ogni suo figlio. Nessuno verrà mai escluso. Seconda immagine che viene impiegata. Gesù vide lo Spirito di Dio scendere come colomba e venire su di Lui. Non dice che una colomba è discesa dal cielo, no, è lo Spirito, questa forza divina, questa vita divina che Gesù possiede in pienezza e che sarà quella che lo guiderà durante tutta la sua vita. Gesù non riceve ordini dall'esterno, lo riceve dalla sua identità divina, quella vita che poi è stata comunicata a noi e quindi è dalla stessa vita che Gesù ha portato nel mondo che noi riceviamo le indicazioni su come vivere, non più dai nostri istinti ma dalla vita divina che è in noi. Questo Spirito è sceso come colomba. Cosa significa questa immagine? È un'immagine biblica, non una colomba che vola. L'immagine dello Spirito che è come colomba. Il primo ricordo che noi abbiamo della colomba nella Bibbia è quella del diluvio, quindi di nuovo è ristabilita l'armonia fra cielo e terra, la pace, perché adesso con noi c'è l'Emmanuele, il Dio con noi. Secondo richiamo che c'ha la colomba deriva dal fatto che la colomba è tenera. Lo Spirito di Dio che è sceso adesso in pienezza su Gesù è come colomba, tenero dal cielo. Noi ricordiamo che Dio lanciava folgori, scagliava saette per sconfiggere i nemici. Anche il Battista aveva questa immagine del Dio che viene per tagliare gli alberi, far tutti a pezzi. No, lo Spirito in Gesù si manifesterà con tenerezza, con dolcezza, con amore, non spezzerà la canna incrinata, non spegnerà il lucignolo che ancora fumiga. Sarà sempre tenero con gli uomini. Distinguerà sempre molto bene fra l'errore e chi commette l'errore. Chi commette l'errore sarà sempre amato perdutamente da Dio. Questo è l'amore incondizionato che ci viene rivelato dallo Spirito che anima Gesù come colomba. E poi la colomba è anche il simbolo dell'attaccamento al proprio nido. Torna sempre al proprio nido la colomba e quindi lo Spirito scende su Gesù perché quello è il nido in cui è accolto in pienezza lo Spirito, la vita divina. Terza immagine biblica. La voce dal cielo che dice questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento. Cos'è questa voce dal cielo? È un'immagine molto comune impiegata al tempo di Gesù. Tutti capivano che cosa significava, non è una voce materiale. È un'espressione che ricorre spesso nella letteratura ed è impiegata quando si vuole attribuire a Dio un'affermazione nel nostro racconto allo scopo di definire in nome di Dio l'identità di Gesù. Cosa dice questa voce? Tu sei mio figlio. Il richiamo è al Salmo II figlio. Nella cultura semitica quando si dice che uno è figlio di un certo padre, più che generato dà e si intende colui che assomiglia, colui che non solo nelle fattezze esteriori ma soprattutto in ciò che caratterizza uno come uomo, i valori in cui crede, le scelte morali, il modo di ragionare, di parlare, di agire, assomiglia al padre. Quindi è figlio. Se la voce del cielo dice questi è mio figlio vuol dire guardate a lui perché quando vedete lui vedete me. È mio figlio in cui io mi riconosco. Siamo all'inizio del Vangelo secondo Matteo e in quest'anno noi vedremo continuamente questo Gesù che si fa vedere. Bene, quando noi lo guardiamo sappiamo di vedere il padre del cielo a cui lui assomiglia perfettamente. È l'amato il riferimento a Isacco. Due figli aveva avuto Abramo uno l'amato e Gesù viene presentato come colui che perfettamente è coinvolto nell'amore verso il padre. E in te mi sono compiaciuto. E qui il riferimento è al servo del Signore che viene presentato nel capitolo 42 del profeta Isaia quando Dio chiama questo servo e dice in te io mi compiaccio. Vuol dire in Gesù il padre del cielo si riconosce. È l'invito durante quest'anno quando noi ascolteremo Gesù e vedremo ciò che lui fa dobbiamo tenere presente questo compiacimento del padre perché è l'invito ad assomigliare a questo Gesù in modo che anche noi possiamo sentire che il padre del cielo si compiace di noi. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.